26 febbraio 2021 Il quinto comandamento secondo Gesù Dal Vangelo secondo Matteo capitolo 5 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Se la vostra giustizia non spererà quella degli scrivi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli Avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio Ma io vi dico Chiunque si addira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedio E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco dell'agenda Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare E lì ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te Lascia lì il tuo dono davanti all'altare Va prima a riconsigliarti con il tuo fratello E poi torna a offrire il tuo dono Mettiti presto d'accordo Con il tuo avversario Bisogni sei in cammino con lui Perché l'avversario non ti consegna il giudice E il giudice la guardia E tu venghi esettato in prigione In verità, in verità, io ti dico Non uscirai di là finché non avrai pregato Fino all'ultimo spicciolo Gesù, conformemente alla vera tradizione Insegna quello che i più fedeli e sapienti conoscevano Ammarai il Signore il tuo Dio con tutto il cuore Con tutta la tua anima e con tutta la tua mente Questo è il grande primo comandamento Il secondo poi è simile a quello Ammarai il tuo prossimo come te stesso Da questi due comandamenti dipendono Tutta la legge e i profeti Nel caso del quinto comandamento Non uccidere Porta a conseguenze estreme Il comandamento dell'amore Per cui egli dice Fu detto agli antichi Ovvero alla generazione che ricevete i comandamenti Per mezzo di Mosè Ma io vi dico Chiunque sia d'ira Si tratta di una innovazione Ma senza contraddizione Non viene abolita la legge Ma approfondita Lo stesso comandamento viene fatto Comprendere Nelle sue conseguenze Estese da ogni forma di scontro Sia verbale Sia che rimangherà chiuso nel cuore Con la forma del rancore E della divisione Potrebbe sembrare Una esagerazione Per il fatto che L'omicidio è un fatto così Enorme E chiaro E tutto quello che non vi rientra Sembra comunque sopportabile Quando non giustificabile Chi subisce un torto Sembra giustificato Nei suoi sentimenti E reazioni Mossi dall'ira Dal giudizio negativo Verso il prossimo L'avversario Per il nemico E così via Normalmente I codici Delle leggi civili Sono quelli che hanno Un riferimento immediato E costituiscono La base Per formare La nostra mentalità Ma questa Non è cristiana Il diritto Sancisce il fatto Non l'intenzione Così siamo abituati A coltivare O permettere La malevolenza Nel nostro cuore Ma La legge di Dio È ben più profonda Del migliore Dei diritti umani Poiché guarda Allo stato Del cuore Delle persone Nell'intenzione È racchiusa La sostanza Del bene O del male La quale Si esprime Nell'azione Costituendo Dei fatti Ma se anche Non arriva Il fatto materiale Il fatto spirituale Sussiste La malevolenza D'animo Produce Mille azioni Che se anche Non arrivano L'omicidio materiale Tendono a danneggiare La vita D'avversario Essa si manifesta Comunque E se le leggi civili Derubricano I comportamenti Rispetto All'omicidio Per la fede Ciò che c'è Nello spirito È ciò che Costituisce L'uomo E lo fa Permanere In uno stato Di alterazione Del bene Le cattive Intenzioni Infatti Sia che Arrivino A materializzarsi Infatti I materiali Sia che Siano trattenute Nell'animo Sono Il male Accolto Che deforma Lo spirito Dell'uomo E lo pone fuori Dallo spirito Di Dio Il fatto È spirituale Ma è la dimensione Piurale Del materiale Perché se il mondo Materiale Passa Quello spirituale Rimane Lo stato Dell'anima Di chi odia Non può Stare davanti A Dio Poiché È contraddittorio Con lo spirito Di Dio Mentre È consono Con lo spirito Del maligno Gesù Averte Che non vi è Spazio Per la convivenza Tra i due spiriti L'uno è nemico Dell'altro Il bene Non convive Col male La radicalità Di Cristo Dunque Non è Cambiamento Della legge Bensì Lucida Conseguenza Per quello Che egli Stava Per donare Agli uomini Che prima Non avevano Lo spirito Santo L'abitazione Di Dio Nel cuore Degli uomini È il grande Dono Di Gesù Ed egli Averte E chiede Che vi sia Rinuncia Totale Al male Perché Dio Sta per Prendere Possesso Totale Dell'anima Dei suoi fedeli Trasformandone L'immagine Di Gesù L'uomo Perfetto L'uomo Secondo il cuore Di Dio Lo spirito Di divisione Di odio Di egoistica Affermazione Di sé Di fratricidio Di guerra È proprio Frutto Dell'impianto Dello spirito Impuro Del maligno Questo è ciò Che Gesù Spazza via Dal cuore Umano E chiede Coerenza Da parte Nostra Per vivere Finalmente Secondo Uno spirito L'amore Per il prossimo È simile All'amore Per Dio Perché Promano Dallo stesso Spirito Di Dio Dio vi benedica